Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio, in studio da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. Oggi lunedì 17 luglio la chiesa celebra la memoria di San Pompiglio Maria Pirrotti, religioso. Nuovo rogo, apriamo dunque con la cronaca nella discarica Noce Mattei del Coggesa. Dopo le 13 di ieri una colonna di fumo si è alzata dall'impianto in uso alla società partecipata, destando non poca preoccupazione. Il rogo si è sviluppato su un'area interessata dai rifiuti indifferenziati. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona con due mezzi per contenere le fiamme ed evitare la propagazione delle stesse. Ad allertare i pompieri sono stati gli operai dell'azienda che hanno dato manforte nelle operazioni di spengimento. Accertamenti specifici si svolgeranno per quanto riguarda la natura dell'incendio e le possibili conseguenze per l'odore acre e nauseabondo che si avverte nella zona. Il comune a tal proposito si metterà in contatto con l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Non si esclude che il rogo possa essersi innescato per il processo di autocombustione, anche se si stanno svolgendo verifiche tra l'impianto di videosorveglianza. Un alpinista è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Teramo dal soccorso alpino e speleologico abruzzese. L'uomo stava scalando la parete del vecchiaccio a quota 2385 metri sul corno piccolo, sul Gran Sasso, quando al secondo tiro è stato colto da un malore probabilmente a causa del Gran Caldo. L'uomo ha chiesto l'aiuto del 118 ed è subito scattato il protocollo di soccorsi in montagna, con il tempestivo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico e dei sanitari decollati con l'elisoccorso dall'aeroporto di Preturo. In queste giornate di caldo torrido il soccorso alpino e speleologico raccomanda di astenersi dall'affrontare salite eccessivamente impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua. Tra i consigli degli esperti c'è quello di cercare di partire alle prime ore del mattino, evitando di camminare in quelle più calde, portando sempre con sé nel proprio zaino almeno due litri e mezzo di acqua a testa, frutta fresca, accessori adeguati per coprirsi dal sole, cappello, telino, occhiali e creme protettive. L'aumento dei tassi di interesse sta pesando sulle tasche degli italiani che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Ma quali sono le aree del paese più colpite? Se l'è chiesta facile.it e insieme mutui.it, secondo cui le regioni più esposte agli aumenti sono il Friuli-Venezia-Giulia, dove negli ultimi 18 mesi il 17,5% dei nuovi mutuatari ha scelto il variabile Labruzzo con il 16,1% e l'Emilia-Romagna con il 15,9%. Oggi devono affrontare diverse difficoltà. L'erogazione dei mutui a tasso variabile spiega a Ivano Cresto che il Managing Director prodotti di finanziamento di Facile.it è destinato a calare ulteriormente se si considera che tra la richiesta del mutuo e la stipula passano in media 4-5 mesi. Questo significa che i mutui variabili erogati nella prima parte del 2023 sono stati richiesti nel secondo semestre 2022, quando la Banca Centrale Europea aveva appena iniziato ad aumentare i tassi. Oggi la richiesta di variabili è ai minimi, inferiore al 2% del totale, e l'effetto sui mutui erogati sarà molto evidente nei prossimi mesi. Torna l'iniziativa dall'Etna al Gran Sasso. A darne notizie è proprio la anneo APS, da associazione di promozione sociale dall'Etna al Gran Sasso, una decisione salutata nella comunità di Città Sant'Angelo con grande entusiasmo anche per la sua valenza turistica e mediatica. La Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, l'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sicilia, la Fondazione Pescara Abruzzo e la CNA, concedendo il loro patrocinio, hanno voluto imprimere una forza ancora più decisa, dicono gli organizzatori, a un appuntamento che è anche un forte richiamo per due regioni. Dal 15 al 23 luglio il Centro Storico di Città Sant'Angelo vive nove giorni ricchi di iniziative, con un cartellone che dà spazio a musica folk, pop e classica. Al centro però resta il momento enogastronomico, che è un po' il segreto del successo di questa festa, secondo gli organizzatori, perché, dicono, sa coniugare perfettamente la tradizione siciliana e quella abruzzese. La politica ora all'Avvocato Berardino Fiorilli, consigliere e vicepresidente del Consiglio Comunale di Pescara, lancia un appello all'unità della maggioranza di centrodestra che amministra il Comune di Pescara e come membro di azione politica si dice pronto ad essere da stimolo per ogni componente della coalizione di centrodestra per garantire, dice, un fine mandato coerente rispetto al programma di inizio legislatura. Ad un anno dalla scadenza per il rinnovo del Consiglio Comunale di Pescara per Mafiorilli, è diventato ormai improcrastinabile serrare le fila della maggioranza e lavorare a testa bassa sui progetti di riqualificazione della città. Il mio punto di osservazione, fuori dalle strette dinamiche di partito, mi consente di vedere probabilmente con più obiettività quanto le diatribe interne, a volte esterne, non soltanto diano un'immagine distorta della coalizione, ma, cosa ancora più grave, distragano dal perseguimento degli obiettivi strategici per la città. La trappola dell'inseguimento del consenso, il remodulare obiettivi, scadenze e priorità per assecondare quel comitato politico o quella categoria rischiano di rimettere in discussione ogni volta l'azione di governo. L'ascolto è fondamentale, dice Fiorilli, soprattutto per costruire con i cittadini un territorio dove possano esistere spazi e luoghi per il superiore bene della collettività, anche di quella silenziosa, ma non meno numerosa e importante. In fase decisionale, la maggioranza, dice, deve adottare maggior coesione. Le scelte dovrebbero essere maggiormente condivise, perché le singole iniziative hanno creato spesso incomprensioni e posizioni inconciliabili che non sempre hanno coinciso con il bene comune. Il programma di governo, presentato all'inizio del mandato, conclude Fiorilli, dovrebbe essere portato avanti da tutti i partiti, ma finora qualcuno ha preferito inseguire le proprie chimere. Torniamo alla cultura, un viaggio nel tempo, nelle intenzioni scandite dalle canzoni del suo ultimo album, Time Traveler, così come dall'autobiografia uscita in tedesco con il titolo analogo Die Zeitreisende. E' quello che Ute Lemper propone all'Aquila sul palco dei Cantieri dell'Immaginario, martedì 18 alle ore 21.30. Regina dei palcoscenici a livello internazionale dividerà la scena con i solisti aquilani diretti da Mario Corvini, con lo spettacolo From Berlin to Broadway, in un concerto in cui ripercorrerà alcuni tra i passaggi più significativi della sua carriera. E noi tra poco daremo la linea al Meteo, Speranza Meteo dunque, e invece più tardi vi ricordiamo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa. E' tutto, grazie per averci seguito. A risentirci.